www.mariziopoli.it Parliamo del patrimonio medio degli italiani, secondo i dati Istat e Banca d'Italia, vi riporto l'articolo e i dati, è sceso a 177.000 euro. Nel 2000 il patrimonio degli italiani superava quello dei tedeschi del 50%, adesso è sceso del 35%. Quindi questo patrimonio corrisponde a 8 volte, questi 177.000 euro, il reddito disponibile ed è concentrato per la metà nel mattone, quindi nell'investimento immobiliare, che negli ultimi 10 anni ha reso molto meno al netto di imposte e costi, decisamente molto meno rispetto al mercato azionario, vi riporto qui. Naturalmente il fatto che gli italiani hanno bloccato il patrimonio nell'investimento immobiliare ha inciso sulla diminuzione del valore del proprio patrimonio. Una riflessione su questo tema? Aspetta a voi! Tutte le uova nello stesso paniere? Alla prossima!